Buongiorno, allora, finalmente sono arrivata le giornate del sole, però io volevo parlare di un'altra cosa. Come vedete oggi ho questa magliettina, che è super carina, però con questo scollo qua magari il reggisino proprio non ci sta. Allora, la soluzione che ho trovato è questo Boop's Tape. Boop's Tape praticamente è un nastro che ti permette di indossare queste magliette e questi vestiti un attimino un po' più scollati, senza però dover usare il reggisino perché ti dà comunque un buon supporto. Allora, la scatola arriva con così, carinissima rosa, con dietro l'istruzione perché sono comunque varie le modalità in cui mettere questo nastro qua. Il nastro che c'è di diversi colori, allora io ce l'ho nero, però c'è anche color carne e cosa super importante, i copri capezzoli. Adesso vi faccio vedere tutto comunque. Allora, ecco qua il copri capezzolo, praticamente dopo vi faccio vedere anche l'applicazione, però praticamente si stacca dall'adesivo, si attacca e dopo con l'istruzione che vi ho fatto vedere prima e che vi ho fatto vedere, ecco qua i vari modi, e praticamente si stacca, si taglia il pezzo di nastro che ci serve e si attacca. Allora, intanto è molto elastico, nel senso una volta che si toglie l'adesivo qua dietro è molto elastico, si adatta molto bene al fisico in generale. Poi, quando è da togliere non è doloroso e questo è super comodo, può essere utilizzato anche sotto i costumi in quanto è impermeabile, quindi non si stacca a contatto con l'acqua, tipo se sono una persona che suda non si stacca. E quindi adesso vi faccio vedere subito come si usa. Allora, ecco qua, vedete, ho staccato, adesso ho staccato, vi faccio vedere, qua si attacca, più o meno, poi prendo, adesso vediamo con quale, quello più comodo in questo caso sarebbe questa qua. Quindi, che fa così, in modo che non si veda comunque, ok? Quindi prendiamo le nostre misure, poi con la forbice tagliamo e il gioco è fatto. Allora, eccoci qua, come vedete il suo lavoro comunque lo fa perché, meno male, sostiene. E vabbè, il fatto che sia nero con la maglia bianca non importa, tanto comunque ci sono di diversi colori, come vi dicevo prima. E quindi niente, ecco, ci vuole un po' di pazienza nel metterlo, però devo dire che è un buon prodotto.